salve a tutti questo non è proprio un vero e proprio video tutorial perché volevo solo dire che è una cosa da adesso in poi vedrete la mia immagine in alto a destra con l'opzione aspetto perché mi piace di più che se alzo la mano destra vedo la mano destra qualche sensata come quando mi guardo lo specchio mi piace di più gestire la cosa in questo modo quindi vedrete anche il pianoforte che lì ha storto quindi non vedete strano la stanza di vivo è spostata no mi sembra più corretto gestire la cosa in questo modo seconda cosa oggi non sono riuscito a fare un video tutorial perché sono andato a patinare su ghiaccio a Padova e infatti adesso faremo un salto virtuale del tempo vi farò vedere una cosa che sono riuscito a fare a Padova con questo tutorial è tutto ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao